Un ringraziamento doveroso in una bellissima mattinata per ringraziare l'undicesimo reparto volo di Pescara che lavora non solo in nostra regione ma anche in altre due regioni per un lavoro determinante, importante, faticoso, pericoloso che compiono 365 giorni all'anno. Questa cerimonia è stata voluta per ricordare la bella vicenda terminata a lieto fine con il ritrovamento della bimba Nicole in Molise il 3 aprile scorso dove il reparto volo di Pescara si è reso partecipe e attore principale del ritrovamento. Quindi era giusto dare un riconoscimento al comandante e a tutto l'equipaggio per questa bellissima vicenda e per ringraziarli con immensa gratitudine per quello che fanno quotidianamente.